L'Italia raffigurata come madre Intanto sta per essere ultimata la stampa dei moduli da distribuire sia per il censimento della popolazione come per quello dell'industria e del commercio indetto contemporaneamente Gran lavoro anche per le macchine qualcosa come 50 milioni di moduli Non a caso questa divinità egizia sta sul portale dell'istituto pare che presiedesse ai numeri Nella biblioteca specializzata troveremo altre testimonianze della scienza dei computi presso le antiche civiltà Gli incas calcolavano sui nodi di tante cordicelle Un ricordo del censimento romano che portò a Betlemme, Maria e Giuseppe Uno del primo obbligo legislativo di periodicità nei censimenti è nella Costituzione degli Stati Uniti Ma restandone la storia veniamo al nostro paese Questo censimento della popolazione del 15 ottobre si chiama buon diritto del centenario Torniamo indietro di un secolo A Torino la mostra storica dell'unità d'Italia simboleggiata fin dall'atrio dai gonfaloni di tutte le province raccolti nel segno di Roma ci aiuta a riassumere Soffermiamoci per qualche istante nell'aula del Parlamento Subalpino che ne costituisce come il centro Qui, nelle discussioni politiche animate da ardente amor di patria nella saggezza diplomatica di Camillo Cavour si posero le basi di quell'unità che era nelle aspirazioni dei patrioti dei cospiratori, dei martiri È il 59 I volontari accorrono da tutta Italia Le prime vittorie delle armi Le rivoluzioni trionfanti nei piccoli stati della penisola Garibaldi con la bandiera dei mille L'incontro che suggella l'unione col Mezzogiorno d'Italia I proclami per i plebisciti Tutti unanimi per l'antico regno sardo che ormai da Torino con la solenne apertura del Parlamento a Palazzo Madama sta per proclamarsi regno d'Italia L'Italia è fatta Bisogna contare gli italiani 31 dicembre 1861 Primo censimento della popolazione Il censimento dell'unità Ecco il facsimile del questionario pubblicato sul giornale ufficiale Un evento storico come ogni censimento del resto Ma vogliamo considerarlo mettendoci un poco nei panni o meglio nelle mezze maniche dei poveri travet che dovettero fare i computi Somme e somme Prove e riprove con lo scrupolo tradizionale della classe Ma poi la soddisfazione della somma finale 21.777.334 cittadini L'Italia è fatta Diamine Un poco dopo tante fatiche anche per merito nostro 20 giugno 71 Una legge istituisce l'obbligo del censimento generale della popolazione ogni 10 anni Al 31 dicembre gli italiani con Roma e Venezia sono 26.801.000 Nell'81 28.460.000 All'alba del nuovo secolo 32.475.000 L'eterno travetto un poco modernizzato salvo che nelle mezze maniche non ha ancora la calcolatrice La macchina da scrivere sì E una battuta dietro l'altra su questo ammenicolo è arrivato a quelle del totale Quanta solennità Passiamo gli avanti Nel 1911 34.671.000 Un gran balzo fino al 51 47.159.000 italiani E nell'anno del centenario? Il censimento industriale e commerciale è fissato per il 16 ottobre Quello della popolazione per il 15 Si intende così fare il punto in giorni e in un'ora prestabiliti in linea teorica la mezzanotte Perché un censimento è come una istantanea Ecco un flash che fissa una situazione per tutti e per ciascuno Questo signor ciascuno ad esempio rappresenterebbe il censito ideale Preciso, metodico, cosciente nel compilare il modulo affidato alle cure di ogni capo famiglia Quest'altro ciascuno è molto franco nella sua fatica È la parte del modulo dedicata ai componenti della famiglia Ma se scrivesse un poco più chiaro Un personaggio importante diremmo Forse commettendo una piccola indiscrezione potremmo sapere qualcosa di più In questa pagina si chiedono notizie professionali E infine ecco un capo famiglia nell'imbarazzo Si tranquillizzino tutti gli imbarazzati I rilevatori sono preparati ad aiutarli Anche a compilare per loro il modulo con la propria penna A lista i moduli dei due censimenti si trasformeranno in schede perforate Ci troviamo appunto nel reparto delle macchine perforatrici dove il lavoro non ha soste Per la statistica i numeri sono il cibo quotidiano Anche al di fuori delle imbandigioni solenni dei censimenti Schede perforate anonime si è detto per i sospettosi Alla statistica piacciono soltanto i numeri I nomi le sono addirittura indigesti Altre macchine Seguiamo il cammino delle schede È una velocissima selezionatrice che raggruppa secondo i diversi caratteri Esempio maschi e femmine Celebi Coniugati Vedovi Eccetera eccetera È il reparto meccanografico Dalle selezionatrici alle tabulatrici che mettono in colonna e tirano le somme Per parlare molto all'ingrosso Finché non ci schiuda le porte il regno dei calcolatori elettronici Le macchine capaci in poche ore dei computi di mesi o di anni per le deboli forze dell'uomo Il calcolatore funziona da solo ma è l'uomo Consoliamoci ad avergli preparato il piano che lo guida Ne vedete lo schema misterioso e inderogabile L'uomo a formare i complicatissimi pannelli che regolano Secondo ogni piano prestabilito il lavoro della macchina Anche per questo reparto i censimenti rappresentano i grandi attesi Perché nella moderna scienza statistica Un censimento si divide e forma tanti rivoli Che danno in sintesi un quadro delle forze Delle condizioni sociali e del lavoro di una nazione Il censimento del centenario trova l'Italia In pieno cammino di sviluppo economico e sociale Ce lo dicono suggestivamente nella mostra celebrativa di Torino dedicata al lavoro Queste grandiose sintesi di progresso I risultati delle indagini statistiche Ce ne daranno una conferma fondata sui numeri Che non ammettono dubbi E insieme sapranno indicare sui dati dell'oggi Orientamenti e provvidenze per il futuro Questa nel suo senso più alto e più vero L'importanza di un censimento L'importanza di un censimento